Sono un pratico walk-kart, sono quattro volte campione regionale. Io sono qua un po' perché, essendo appassionato di motori, mio padre ha accettato l'invito e quindi ha scelto di portarlo qui con lui. E quando mi è stato detto, andiamo a fare un giro con Nuova Maria, non ho esitato. Una macchina da rete! Dai, quasi una formula! Dai, ragazzi! Pensa che scappo che ha! Cioè, proprio studiato perfettamente. Trovamelo un altro! Strepittoso, guarda, 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 guarda! Perché poi hai sempre due motorine in acqua, per forza! Ma questa è una macchina da corsa, non è una barca! È fermo a terra, è incollato a terra. Bello, fantastico! Sì, a guidarlo deve essere stratosferico. Che faccio! Grazie! Grazie! Grazie.